Mentre continua a tenere banco la collocazione della trirremi greca, il sottosuolo gelese restituisce altri tesori. Con il ritrovamento di altre quattro tombe salgono a sé le sepolture di una necropoli arcaica dei bambini scoperta nei giorni scorsi in via di Bartolo, nel quartiere Borgo, durante le operazioni di scavo eseguite dalla ditta Open Fiber che sta realizzando in città una rete di telecomunicazioni a banda larga. Si tratta di inumazioni su due strati in epoche diverse che gli archeologi, sia della sommintendenza ai beni culturali di Caltanissetta, coadiuvati da quella di sorveglianza alla società costruttrice, hanno datato come risalenti al periodo immediatamente successivo alla nascita della colonia rodiocretese di Gera, cioè dopo il 688 a.C. Le tombe dei bimbi utilizzavano un sistema di sepoltura che consisteva nel deporre il corpo del bambino all'interno del vaso di terracotta in posizione rannicchiata. In quelle finora aperte sono stati rinvenuti i resti di un ragazzino di circa 5-8 anni posti all'interno di un'anfora ancora sigillata con terra gialla ed argilla, quella di un neonato di pochi mesi, non più di un anno, di un'anfora corinzia del tipo A, 570-560 a.C., di cui si è recuperato il corredo posto all'esterno. Ancora da aprire la numero 5 e la numero 6. La necropoli del borgo afferisce alle fasi più antiche della colonia e si estende fin oltre il limite dell'attuale via San Mito, ex via Cuba. Da qui, verso ovest, si sviluppano le necropoli di età successiva, cioè classica ed ellenistica, di capo soprano. Si tratterebbe quindi del primissimo nucleo di greci giunti da rodi e da creta per fondare la colonia di Gera e quindi fare primi ed essere sepolti insieme alle ricchissime ceramiche da loro stessi importate da diverse aree del Mediterraneo orientale, come rodi, creta, mileto, ionia, atene e corinto. Come nolpe integra, cioè una brocca con corpi allungati ed imboccatura rotonda, e una bellissima coppa su piede del proto corinzio, risultata il reperto più antico recuperato finora in questi scavi.